Il professor Giovanni Dinelli del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna ha voluto approfondire il tema dell'agroecologia ricordando anche che bisogna recuperare i saperi del passato pur nel rispetto delle nuove conoscenze. Spesso gli agricoltori non sanno, cioè nel senso che non hanno anche la possibilità di confrontarsi con una nuova conoscenza, anche con le nuove conoscenze e un po' deve essere il servizio che viene assicurato dall'università e viene assicurato dai servizi regionali. Alla fine i progetti PSR nascono per portare questa conoscenza, è un'idea secondo me molto valida, dei fondi vengono usati per unire agricoltori con chi fa la ricerca per cercare di trovare delle applicazioni pratiche e consentire questo trasferimento di conoscenze anche.